Eccoci di nuovo qui a Radio Puggini On Air per un'entudiasmante radiocronaca in diretta dalla finale di Sanremo 2024 dove un ospite speciale ha caratturato l'attenzione e i commenti di tutto il pubblico e di tutto il web già Roberto Bolle, l'etual della Scala di Milano e un'icona della danza italiana nel mondo. Appena pochi minuti fa i social media sono esplosi di commenti e complimenti per la performance di Roberto Bolle sul palco del teatro Ariston noi lo abbiamo appena visto esibirsi e che dire è da vedere naturalmente come qualsiasi performance di danza davvero un momento emozionante sul palco dell'Ariston. le parole di ammirazione e stupore non si contano immaginate un alieno che scende sulla terra e incontra Roberto Bolle e me e ci classifica come due specie diverse scrive un utente sotto shock quando ho scoperto che Roberto Bolle ha 48 anni commenta un altro fan e c'è chi scherza sul fatto che Bolle sembri fare body shaming verso tutti noi con la sua straordinaria forma fisica e la sua bellezza mozzafiato. La performance di Roberto Bolle in questa finalissima del Festival di Sanremo 2024 è stata una celebrazione della grazia e dell'eleganza accompagnata dalle note del Bolero e dalla presenza di 18 danzatori del Bayard Ballet di Losanna sul palco Bolle ha espresso il desiderio di portare l'arte della danza al pubblico più ampio possibile dimostrando ancora una volta il suo impegno nel promuovere la cultura e l'arte in tutto il mondo non solo ha regalato una straordinaria performance ma ha anche dato una breve lezione di danza a Rosario Fiorello co-conduttore questa sera del Festival di Sanremo abbiamo visto presentare in modo molto ironico e divertente alcuni artisti per esempio ricordo Ine Gramaro infatti ha scherzato anche con Giuliano con San Giorgi e dicevo insomma anche ha dato una lezione di danza a Rosario Fiorello dimostrando la sua generosità nel condividere la sua arte con gli altri Roberto Bolle è un vero dio greco della danza sta per compiere 49 anni il prossimo 26 marzo eppure continua ad incantare il pubblico con la sua eterna giovinezza e la sua straordinaria maestria non c'è da meravigliarsi che i social siano impazziti per lui dopo la sua esibizione a Sanremo restate sintonizzati qui a Radio Puginio NER per tutti gli aggiornamenti su questa straordinaria finale del Festival di Sanremo 24 ci colleghiamo di nuovo con voi tra pochissimo per le ultime novità per ulteriori novità perché non sono le ultime abbiamo tempo da qui alle 2 alle 3 di notte fino al momento in cui ci verrà detto chi è il vincitore noi saremo qui in diretta a raccontarvelo per cui non mancate iscrivetevi al mio canale youtube se avete tempo tra una canzone di Sanremo e l'altra ascoltate la mia musica e restate sintonizzati perché noi ci riascoltiamo a pochissimo tra pochissimo qui a Radio Puginio NER